Primo dicembre e il Fielfo oggi vi parla di Il Lago dei Cigni raccontato da Margaret Fontaine. Si tratta di una versione a fiaba, a storia, a racconto del famoso balletto di Tchaikovsky, Il Lago dei Cigni. Un balletto forse tra i più celebri che siano stati mai composti in quattro atti tra il 1875 e il 1876 e rappresentato per la prima volta nel Teatro di Mosca nel 1877. Ma non tutti sanno che in realtà la versione, diciamo, scritta, raccontata del balletto esiste praticamente da sempre, nel senso che parliamo di un'antica fiaba tedesca, Il Velo Rubato, dalla quale fu tratto poi il racconto, dal quale poi fu tratto il libretto che appunto viene musicato poi da Tchaikovsky. Infatti quando parliamo di balletti così come di opere o anche di operette c'è sempre un libretto dietro, c'è sempre una versione scritta che poi chiaramente viene musicata. Quindi molto bello scegliere per questo Natale un libro che racconti un balletto oppure un'opera lirica oppure un'operetta e che faccia quindi capire come in realtà il prodotto finale, in questo caso il balletto in quattro atti, è una combinazione perfetta tra musica e parole e forse anche le parole in un certo senso. Se sono ben scelte possono in se stesse diventare musica. Sì, questo me lo segno perché è molto interessante. Comunque io con questo vi saluto e vi do appuntamento al 2 di dicembre. Ciao dai FUELFI!